Presenze turistiche in calo. Confrontando i dati del 2016 e del 2017, ad Agrigento si è registrata una flessione del 6% a fronte di 344.848 arrivi nel 2016 e di 1.100.000 presenze nel 2016. L'anno successivo il rapporto si chiude con un segno meno. 330.428 arrivi, 1.035.000 le presenze. Il 45% sono stranieri, l'84% dei turisti che sbarcano ad Agrigento sceglie gli hotel. Ma da dove vengono gli stranieri che scelgono Agrigento? La top 5 dice 23%, Francia, il 3% la Germania e l'Inghilterra, il 2% l'America e i Paesi Bassi, il 67% il resto del mondo. I turisti vengono ad Agrigento per provare l'enogastronomia, per scoprire il patrimonio culturale, per partecipare ad eventi, per un congresso o un meeting aziendale e una percentuale minima anche per sposarsi. I dati sono stati diffusi ad Agrigento a Casa San Filippo, sede dell'ente Parco della Valle dei Templi, su iniziativa di Sicilia Convention Bureau e del Consorzio Turistico Valle dei Templi, preseduto da Emanuele Farruggia durante la terza edizione di Sicili Epitalk. L'incontro è stato rivolto soprattutto alle istituzioni e agli operatori turistici del territorio per condividere le novità del settore turistico ed elaborare proposte per contribuire allo sviluppo turistico ed economico della Sicilia. In scaletta, numerosi interventi sul tema e sotto diversi aspetti anche enogastronomico e della innovazione tecnologica. Dopo il successo delle prime due edizioni, il Sicili Epitalk della Sicilia Convention Bureau ha proseguito il suo viaggio nell'isola. Ghirdoscio è arrivato anche nella città dei Templi. L'evento è stato realizzato grazie all'organizzazione tecnica e logistica curata dal Consorzio Valle dei Templi, che è stato scelto come partner. Il presidente Emanuele Farruggia ha offerto il proprio contributo durante l'incontro per lo sviluppo turistico ed economico della Sicilia. Nel vasto programma si è parlato pure di crescita del turismo enogastronomico nel territorio agrigentino con un intervento di Carmelo Sgandurra, presidente della Strada del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi. Infine è stato toccato il tasto legato all'innovazione tecnologica Instagram per lo sviluppo turistico del territorio e del brand e con l'intervento di Federica Miceri, regional manager di Iger Sicilia.